Sì, io lì a Venezia avevo trovato il mio spazio, stavo giocando con Quintinetà e adesso che sono arrivato qui a Palermo sicuramente non mi aspetto già sabato di entrare in campo subito dall'inizio. Chiaramente ci sarà un po' di concorrenza ma io sono venuto qui anche per migliorare tantissimo, per imparare tanto dai miei compagni che hanno già giocato in campionati maggiori quindi io mi metto a disposizione della squadra e spero di dare il contributo per portare avanti questa squadra fin in alto. Come ho detto le scelte le farà il mister, sarà un grande piacere giocare a fianco a lui o entrare al posto suo, questo poi si vedrà durante il corso del campionato. Io cercherò di farmi trovare pronto ogni giorno e dare sempre al massimo un allenamento per ritagliarmi il mio spazio. Il direttore mi aveva già avvisato che questa squadra è un grandissimo gruppo, bello unito, infatti già dai primi giorni che sono arrivato sono stati tutti molto carini con me, mi hanno presentato tutti e si vede già che si sono molto uniti, infatti poi sabato in amichevole mi sono integrato subito nella partitella e si vede qua che si gioca molto bene a calcio e comunque facendo movimenti la palla arrivava sempre quindi è una cosa molto positiva, sicuramente qua posso migliorare tanto e sono contento. La partita qua a Palermo è stata una partita un po' strana, uno 0-0 molto tirato, molto difficile come partita per affrontare il Palermo, sicuramente molto difficile. Chi mi ha impressionato è quasi tutti perché dalla presenza fisica che hanno qui è davvero importante, poi ci hanno giocatori di un'immensa qualità come Iaglialo, Coronado, Struna e difensori, quindi era molto difficile giocarci. Il ruolo adesso sono diventato da qualche anno una prima punta, però da molto movimento perché come caratteristica ho anche tanta corsa, quindi mi muovo molto per il campo, però sono sempre stato da piccolo fino a qualche anno fa un classico esterno a 4-4-2, quindi ho coperto molti ruoli nei miei anni. Il Palermo io la considero un club di Serie A, quindi la Serie B non è il suo posto, io come ho detto non ci ho pensato due volte ad accettare perché qui sono sicuro che c'è la voglia di ritornare in alto e poi da questa società, sono passati dei giocatori incredibili nel corso di questi anni, quindi per un giocatore venire qui è una grossissima soddisfazione, soprattutto per me ma come penso tanti altri, è il sogno di ogni ragazzo di giocare prima o poi in Serie A, quindi sono sicuro che qua si potrebbe farlo. Manjukic è un paragone che mi fanno in tanti, ma i miei compagni, per il modo in cui mi esprimo sul campo, ovvero tanto sacrificio per la squadra perché se ho una corsa da fare in più la faccio tranquillamente, rincorro anche fino alla nostra area di rigore e poi penso come attaccante, come forza di testa, penso il paragone sia questo. Io poi lo osservo molto mentre gioca perché mi piace molto. Il numero 9 è sempre stato il mio numero preferito, ci ho provato da qualche anno che provo a prenderlo, però arriva sempre qualche giocatore più importante che me lo porta via, però non ci penso tanto al numero, un numero che sta sulle spalle, io sono felice di averlo preso, speriamo che porti bene. Certamente ho tre gol nel giro d'andata, anche per le occasioni che avevo avuto sono un po' pochini, però devo migliorare molto sotto quell'aspetto a sottoporta perché mi impegno molto e a volte poi arrivo anche troppo stanco a sottoporta, me l'ha detto molte volte, quindi devo cercare di magari correre meglio, magari un pochino meno, ma meglio così da risparmiare energie per arrivare decisivo a sottoporta. Lo considero un grande traguardo per me e anche un punto di partenza, spero, perché sono dopo quell'anno che ho perso praticamente per l'infortuna che ho avuto, ho deciso di rilanciarmi in Lega Pro e cercare di riprendere la forma fisica, i minuti nelle gambe e questo mi ha servito molto anche per migliorare ancora di più. L'anno scorso poi è andata bene, sono ritornati in Serie B, la categoria che volevo fare e quindi adesso venire acquistati dal Palermo è una grossissima soddisfazione. Del Palermo sinceramente l'ho saputo più o meno due giorni prima di partire, quindi è stata una cosa molto veloce. Io devo molto a lui perché Inzaghi mi ha lanciato in questo anno e mezzo con lui al Venezia, è stata una bellissima persona che ringrazio molto e mi ha lasciato parecchio il suo modo di stare in campo e ce lo trasmette sempre, poi ti fa vedere come non mollare mai in campo e come crederci fino alla fine anche su una palla che sembra persa. La sua forza era quella, credere su ogni palla e andare sempre lì, infatti faceva sempre gol e quindi mi ha lasciato questa cosa qua e spero di metterla in pratica. Beh sì, ti fa vedere tanti movimenti come andare a prendersi la palla, come scattare sempre sulla linea del fuorigioco, cose che io essendo da qualche anno che faccio la prima punta magari non conoscevo bene, per questo lo ringrazio tanto. Da quanto ho saputo non voleva tanto lasciarmi andare via, però alla fine ho parlato con lui ed era molto contento per me perché anche per lui era una grossa soddisfazione con il suo giocatore, andava in un club del genere, quindi poi niente ha detto che ci rimarriamo in contatto e questo. Con Rinaldo ho parlato velocemente, mi ha spiegato un po' che qua mi troverò benissimo perché è una città fantastica e come società mi ha detto che qui si respira proprio il calcio vero, quindi su questo ne sono convinto. I tifosi del Palermo, come ho già detto in precedenza, sono qui per dare tutto quello che posso dare alla squadra, il mio contributo e cercare di dare una mano a conquistare questa Serie A. Grazie. Grazie.